Faccio soppressione Non vado a nessuna parte Non posso muovermi da qui D'accordo Ah forse non ho usato Ah non ho perso un youtube Mi muovo verso le coordinate Vedi qualcuno? Lo blasto Allora Ehm Vado Nessun danno Ma con la spada 99 In movimento Niente lo manchiamo tutti Ah E dai Però forse era meglio Che facevo così Fin dall'inizio Così avrei fermato problemi a tutti Avete visto? Agli ordini Wow Vip bersaglio con noi Mena Mena sono cinque Identità del bersaglio Confermata Cosa Cosa sta caricando? Che c'è una Voglio Voglio sparare al vip Così senza che io abbia potuto fare nulla ancora Cosa 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 e uno è andato a che quota siamo ormai? forse ci siamo! posizione compromessa! ok bersaglio corazzato danni minimi wow che male la corazza ha resistito va bene non è importante qui intanto ah non ci arriva fino a lì cazzo ehm tento un'azione eh allora gianna perdonami devi salvare i tuoi amici così granata lanciata bersagli multipli neutralizzati uh c'è uno gi... qualcosa dire di correre si può fare tu curalo attivazione bot medico parto ok questo è in molta forma le squisciano ovun eh critica addirittura eh critica addirittura mena sono cinque attenzione dei caccia nemici stanno convergendo in zona firebrand ha poco tempo per l'estrazione nemico eliminato nemico eliminato e vai scatto scatto non 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 bene bene ti muovo ho marciato giù due cose ma ho marciato giù oh non credi sì è buono ho qualcosa di buono non posizione confermata non è che arma il plasma in ora sto di guardia più pesardo eh da parte ricevuto ehm tento andare lì dentro affermativo 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 ehm arrivo arrivo nooo mena sono cinque stato confermato pacco in custodia via vado ok mi muovo facciamo recuperare un po' di vita dai vai a curare vai a curare vado altri nemici in arrivo altri nemici in arrivo e questo? mena sono cinque rileviamo dei trasporti nemici in arrivo verso la vostra posizione eh probabil lancio il rampino lancio il rampino eh cazzo cazzo ci fanno sul tetto cazzo ci fanno sul tetto c'è un po' la due Palle Così, uno è andato Ma che quota siamo ormai? Poi avranno anche gli altri nemici Nessun problema, capo C'è un problema Grazie.